Nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone che vede congiuntamente impegnate le forze della squadra mobile presso la questura di Frosinone del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone, è stata inseguita un'ordinanza che ha disposto misure cautelari personali e reali a carico di diverse persone fisiche e giuridiche, accusati di riciclaggio e autoriciclaggio, associazione per delinquere, truffa per erogazioni pubbliche, esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, infedeltà patrimoniale. Due persone sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere, sette a custodia cautelare domiciliare e due persone sono state interdette dall'esercizio di una professione e dall'esercizio di imprese ed uffici. Misure reali sono costituite da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta per circa 4 milioni di euro, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio per un totale di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Sono stati acquisiti e sequestrati documenti negli uffici della sede centrale di una banca e presso le cancellerie della sezione fallimentare e delle esecuzioni immobiliari di alcuni tribunali. L'investigazione ha preso impulso da confidenze ai suoi interlocutori di un imprenditore ciociaro sottoposto ad intercettazioni perché coinvolto in traffici di stupefacenti sui modi in cui un suo amico imprenditore faceva soldi operando nel settore delle aste giudiziarie e godendo della piena fiducia e dell'appoggio del direttore generale della Banca Popolare del Frusinate. Le indagini prontamente attivate evidenziavano una più complessa situazione di inquinamento del mercato immobiliare locale e facevano emergere l'attività di più gruppi organizzati che operavano sia nel settore delle truffe per il cosiddetto super bonus sia nella creazione di falsi crediti erariali e nella organizzazione di indebite compensazioni sia nel riciclaggio e nell'autoriciclaggio di rilevanti partite di nero sia nelle esecuzioni di reati fiscali e societari presupposti dall'attività riciclatoria. Secondo la ricostruzione fornita nella ordinanza custodiale del GIP degli accertamenti effettuati si delineavano tre associazioni per delinquere fra loro interconnesse quanto all'attività di riciclaggio e due di esse aventi strutturale influenza nella gestione delle linee di credito di una banca di Frusinone mediante il ruolo primario svolto per il raggiungimento degli obiettivi associativi del direttore generale e da funzionari del corporate banking di quell'istituto oltre che da due notai che redigevano gli atti di interesse per gli associati. Grazie. Grazie.